Musica Ben trovati a voi tutti ad un nuovo appuntamento con Belluno Economia. È tornato a trovarci in studio Marco Gricoletto che è il presidente di ANEF Veneto. Ben trovato presidente. Grazie e ben trovati anche i telespettatori. Parliamo quindi della stagione della neve, la ricchezza ovviamente del nostro territorio dolomitico. Com'è andata questa stagione che ormai è un buon punto? Sì, intanto diciamo che si è svolto il primo terzo della stagione con le feste di Natale e la Befana. Per tutto il comparto è andata molto bene. In questo momento siamo molto contenti. I dati ci confortano. Abbiamo avuto nel Superski una vendita di skippers che è all'incirca del 10% superiore all'anno scorso. Quindi siamo tutti molto felici di questo. Vediamo che nonostante ci fosse stato un aumento dei prezzi dello skippers, vediamo comunque un riscontro molto positivo, soprattutto dagli stranieri. Ecco, infatti la preoccupazione era forse un po' legata ai temi generali che stanno affliggendo il nostro paese. Cioè l'inflazione e la crisi energetica che sicuramente si stanno abbattendo sui portafogli di tutti noi. Sì, diciamo che un piccolo sforzo l'abbiamo fatto anche noi perché pur avendo aumentato gli skippers del 10%, diciamo poi online si potevano acquistare con uno sconto già del 5% ma faccio notare che l'inflazione reale adesso è al 12-13% per cui noi ci mettiamo anche del nostro nei costi, nel sostenere i costi di questa stagione proprio perché siamo il primo anello della catena economica della montagna. Ecco, lei l'ha ribadito più volte, infatti il ruolo diciamo di cuore e di motore della nostra economia. Cioè attorno agli impianti, intorno agli impianti F1 si muove un po' tutto il sistema, no Montano? Sì, si muove un sistema molto grande, l'ho ricordato più volte, un euro speso sugli impianti F1 di indotto crea circa dagli 8 ai 10 euro. Quindi per indotto intendiamo gli alberghi, le strutture, i noleggi, i bar, tutte quelle attività economiche che girano intorno al mondo dello sci. Ecco, parlava prima del ritorno degli stranieri. Sì, sì, è stata una piacere sorpresa perché sono tornati molto gli americani, abbiamo trovato anche molti dei paesi dell'est, Cecoslovacchia, Ungheria, che sono molto presenti e naturalmente i polacchi che ormai sono una cosa abbastanza stabile, nel corso degli ultimi anni arrivano e sono stabili sulle dromiti. E sappiamo che anche questo target di riferimento insomma pesa in un poco su quello che è il vostro operare. Sì, diciamo che in alcune aree più basse pesa un po' meno, nel senso che la difficoltà delle aree più basse, cito Falcade come Alleghe, ha un turismo più di giornata diciamo e quindi più legato al territorio italiano e al territorio veneto. Invece per le terre alte come Cortina, Rabba, allora lì siccome facciamo parte di un grande comprensorio che è il Dolomiti Supeschi, c'è molto interesse da parte degli stranieri nel sfruttare questo comprensorio che ormai è famoso in tutta Europa. Certo, senta Presidente, raccontiamo un po' questa problematica, cioè ci addentriamo un po' in questo dibattito che si sta alzando anche in questi giorni a livello nazionale, cioè balza agli occhi di tutti che comunque le temperature sono anomale in questo periodo, sono molto più calde del solito, lo sentiamo, lo viviamo, anche la neve non è così tanta come voi vorreste. Qual è il futuro anche per lo sci? Sì, allora è vero, la neve non è così tanta come vorremmo, noi l'abbiamo fatta nei momenti più freddi dell'inizio della stagione, ho visto anch'io sui giornali alcuni commenti sul fatto che bisognerebbe abbandonare lo sci, ma di fatto lo sci in questo momento è l'unico, diciamo così, fattore economico che tiene in piedi la montagna. Questo non è possibile cambiarlo nei prossimi anni e comunque ribadisco come ho già fatto in altre sedi che se fra 25 anni non potessimo più sciare perché le temperature si alzano troppo, probabilmente lo sci sarebbe l'ultimo dei problemi, ma la problematica sarebbe ad esempio che potremmo avere il mare a un chilometro dentro la costa, per cui la vedo un po' come una cosa abbastanza aleatoria in questo momento. C'è da dire anche che su questo argomento noi come impiantisti ci siamo già attrezzati, nel senso che abbiamo delle ottime tecnologie, produciamo neve, rendiamo secondo me un servizio, perché cosa succede? È vero che c'è il cambiamento climatico, ma la neve che noi produciamo di fatto in parte sostituisce un po' quella naturale che defluisce in primavera creando comunque delle riserve d'acqua stabili per l'inverno. A questo proposito noi adesso stiamo chiedendo anche al Governo e alla Regione di creare degli aiuti che ci possano permettere sia di ancora rendere più tecnologici i nostri impianti di nevamento e al Governo nello specifico stiamo chiedendo anche la possibilità di poter costruire dei laghi e quindi non solo aiuti ma anche legislazione semplificata a costruire dei laghi che hanno sì lo scopo di nevare d'inverno, ma hanno anche uno scopo turistico per l'estate, quindi con più valenze e hanno anche uno scopo di riserva d'acqua, sia antincendio e sia come riserva d'acqua per le zone in cui sono stati creati. Certo perché sappiamo che un'altra criticità ovviamente è anche quella, la carenza d'acqua. I costi di nevamento sono significativi, voi avete comunque avuto già qualche sostegno? Non abbiamo ancora avuto sostegno, i costi di nevamento sono significativi sì, però diciamo che è uno sforzo che si fa perché, ripeto, dobbiamo comunque fare la stagione, dobbiamo comunque rendere le nostre piste fruibili e sicure soprattutto. Su questo devo dire che sia il comparto Veneto principalmente, ma tutto il super ski è abbastanza, siamo abbastanza preparati e abbiamo le migliori piste che ci sono in Europa dal punto di vista del trattamento, per cui siamo molto tranquilli da questo punto di vista. Ecco, infatti Presidente, diciamo quella che viene offerta all'utente è proprio un'esperienza diciamo unica perché comunque l'offerta che voi proponete nei vari comprensori, nelle varie strutture, insomma è sempre più ricca partendo dalle esperienze, dai paesaggi, dalle sensazioni che si provano, insomma c'è un turismo sempre più raffinato. Sì, questo devo dar merito anche al fatto che le Dolomiti sono patrimonio UNESCO, sono riconosciute a livello universale, per cui c'è molto interesse e naturalmente il paesaggio è fantastico, proprio in questi giorni tra l'altro è nevicato, per cui se un turista viene e vede questo paesaggio con la neve, con la roccia dolomitica che all'imbrunire dà dei colori stupendi, questo senz'altro rimane nella memoria del turista e ci permette di, come dire, ci permette di avere una buona possibilità perché ritorni a trovarci, ecco. Senta, all'orizzonte ci sono le sette mani bianche che sono un po' il clou, vero? Sì, sono il clou diciamo per la nostra stagione quasi di più di quello che è il Natale e la Befana. Siamo molto fiduciosi, abbiamo personalmente ho sentito diversi albergatori che sono molto contenti già delle prenotazioni, per cui noi speriamo che questa sia un'ottima stagione in tutto il tempo che serve per finirla, nel senso che per ora è andato tutto molto bene. Anche adesso che siamo in un periodo di bassa stagione comunque abbiamo, ci siamo accorti che c'è molto interesse nello sci e abbiamo ancora molti sciatori sulle nostre aree, l'80% stranieri, però anche con le settimane bianche al momento noi sappiamo che ci sono delle prenotazioni, ci sono tante prenotazioni e abbiamo quasi tutto esaurito per il momento. Quindi gli auspici sono buoni. Senta Presidente, ovviamente nel suo ruolo di ANEF a Veneto, bellunese però, all'occhio su tutto il territorio, dobbiamo fare un riferimento al caso Marmolada, la ripartenza della stagione finalmente anche sul massiccio, insomma, è andata, com'è andata? Ce lo dica lei, Presidente. Beh, è andata abbastanza bene, nel senso che loro chiaramente avevano un attimo di difficoltà nell'apertura iniziale perché dovevano preparare le piste, è rimasta bloccata per diverso tempo e adesso possiamo dire che abbiamo un completamento quasi di un anello, che è quello che porta diciamo dalla parte d'Arabba verso la Marmolada, che è molto interessante per il turista e che rende sicuramente più appetibile anche il nostro turismo bellunese. Infine, un'ultima domanda, state già lavorando per l'estivo? Stiamo già preparando per l'estivo, è chiaro che noi siamo ancora a livello quasi embrionale dal punto di vista estivo perché dobbiamo sviluppare sicuramente in tutte le nostre aree la questione del bike, quindi il trasporto di biciclette, le discese, le piste, stiamo cercando di ragionare con la Regione Veneto anche per cercare di creare una legislazione che ci permetta di fare dei percorsi bike che ricordo devono, non seguono propriamente la pista, quindi ci sono delle problematiche sui terreni, sulle cose da fare, però stiamo lavorando molto positivamente con tutti gli enti preposti e cercheremo adesso di portare avanti anche questo perché è chiaramente un obiettivo per allungare tutte le stagioni e cercare di, anche perché se noi riusciamo ad allungare le stagioni diamo anche delle possibilità ai nostri lavoratori di avere una continuità e questo è uno dei nostri obiettivi. Bene Presidente, allora io la ringrazio ancora per essere stato qui con noi, Marco Grigoletto Presidente di ANEF Veneto, l'Associazione delle Aziende Funiviarie, buon lavoro a lei per l'attività e per il resto quindi della stagione. Grazie a lei e grazie ai telespettatori. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto, arrivederci.